Dottor Flavio Bruno, anche quest'anno ha organizzato un raduno cinofilo di razze meridionali da lavoro al contato del Molise. È una struttura organizzata e ideata da lei con tanta passione. Come si è svolta la giornata? La giornata si è svolta abbastanza bene. Le aspettative che avevamo delle persone ha rispecchiato appieno quello che ci avevamo premesso. E gente è venuta da tutta Italia e sono venuti gli amici anche dall'Inghilterra, i quali stanno portando avanti le nostre idee, i nostri cani, facendoli conoscere in Gran Bretagna. Qual è lo scopo di questa manifestazione? Lo scopo è sempre quello di fare un discorso culturale, logicamente a livello zootecnico, per valorizzare le nostre razze, perché è un patrimonio da conservare e da far conoscere. In quanto è solo la conoscenza che permette poi a queste razze di mantenersi in un certo modo, sia zootecnico e sia attitudinale. Lei sta parlando anche di crescita del cane, sviluppo. Secondo lei nel tempo caratteristiche comportamentali sono state modificate? Questo è un altro problema che ci siamo posti. Infatti le razze che noi trattiamo sono cani che ancora lavorano in un certo modo, che provengono appunto dalla campagna dove le persone pratiche li hanno utilizzati per una ben precisa funzione. Infatti questi cani, la maggior parte, sia i Volpini, sia i Corsi, sia gli Abruzzesi, sono cani prettamente da lavoro e quindi selezionati per una funzione, per uno scopo. Logicamente questo fa sì che conservino anche quelle caratteristiche caratteriali e strutturali per permettere quelle attività dove il cane è stato utilizzato. Purtroppo tanti cani che vengono allontanati dal loro mondo oppure non hanno quella selezione dietro, c'è il problema che anche caratterialmente vengono modificati. Questo è un centro specializzato di cani corso, di levrieri, pastori abruzzesi o meglio anche, come dice lei, mastini abruzzesi. Spesso si fa anche una confusione sul termine. Ci può spiegare? Certo, noi quando scriviamo qualcosa e ci documentiamo vediamo anche le origini, perché il nome sta nelle origini, perché le persone antiche attribuivano al cane una funzione, di conseguenza gli attribuivano un nome e quel nome indicava appunto una funzione al cane. Il cane corso si indica così, veniva chiamato cane corso o cane da presa, proprio perché la sua funzione attitudinale era anche quella anticamente di bloccare gli animali selvatici o di bloccare il toro oppure di essere utilizzate per delle cacce pericolose come quella al cinghiale e quindi per far questo tipo di caccia occorreva una certa funzione, come il termine corso indicava appunto un cane adatto a fare la guardia. Quindi in un luogo recintato e chiuso, anticamente in tutte le zone d'Italia dove c'erano delle attività commerciali, dove c'erano delle fattorie e che appunto presentavano dei luoghi chiusi, la presenza del cane corso era quasi indispensabile, come anche del levriero. Il levriero si chiama così perché era uno dei pochi cani che riusciva a raggiungere la lepre in corsa. Infatti levriero significa il cane adatto per la caccia alla lepre. Il mastino, anche se lo si chiama a volte, secondo me, anche in modo sbagliato, con varie terminologie, però il termine di quel cane da sempre, i pastori lo definiscono mastino, lo chiamano anche cane da pecore o cane da lupo nell'indicare appunto la funzione. Mastino indica, o perlomeno noi l'abbiamo sempre chiamato mastina bruzzese, che indica il cane adatto alla custodia del gregge, quindi il cane adatto alle pecore, in quanto la pecore è un animale debole che potrebbe essere facilmente attaccato, quindi serve un cane che la difende, ma che nello stesso tempo non attacca le pecore. Quindi questo è stato un lavoro di secoli per selezionare un cane con quelle attitudini. Quindi quando parliamo di mastini indichiamo un cane adatto alla custodia del gregge e in particolare degli ovini. Santa Croce di Magliano, il contato del Molise, è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questi amici a quattro zampe. Un suo amico ha aperto anche un centro in Inghilterra con la sua collaborazione. E' orgoglioso, no? Certo, sì, anche perché di solito gli italiani sono un po' esterofili, copiano più dagli altri, quando in patria abbiamo tanto da valorizzare e da far vedere. Questo amico inglese ha aperto il centro del contato del Molise in Inghilterra, dove ha importato sia i canicorsi sia i volpini, dove ha diffuso non solo il cane, ma anche la cultura che c'è dietro a questi cani, quindi ciò logicamente ci ha fatto molto piacere. Quali sono i vostri progetti futuri? I progetti futuri ce ne sono più di uno, però l'importante è iniziare a continuare a tenere questa attività in questo modo, proprio perché ci sono tanti amici, infatti quest'anno il raduno è stato fatto anche perché tutti gli amici hanno voluto che si facesse. Quindi ciò significa che interessa proprio il modo come è stato concepito, perché è l'unico centro che si interessa in questo modo del cane. Noi ci siamo interessati da anni, da quando è nato il centro, appunto su tutto l'aspetto storico e culturale, zootecnico, alimentare, eccetera, e quindi dove il soggetto principale non è l'uomo, come al solito, ma il cane.